Una dozzina di nuovi spazi blu a pagamento è spuntata questa mattina a Piazzale Marconi, nell'area compresa tra l'ingresso della stazione ferroviaria e il centro commerciale. L'area interessata è stata delimitata con i New Jersey, che proteggono per il momento i 12 neonati posti auto. Un paio sono stati addirittura disegnati sull'iwall in porfido destinata a regolare la viabilità. Proprio restringimento delle carreggiate dovute ai nuovi spazi sta causando malumore tra gli automobilisti e gli autisti degli autobus che si vedono limitati lo spazio per svoltare a sinistra, verso la stazione. Anche i camion che ogni giorno consegnano la merce ai negozi della galleria commerciale questa mattina hanno avuto qualche difficoltà di manovra, forse dovuta anche alla sorpresa. Effettivamente si è verificato qualche ingorgo in più del solito. I mancabili sono arrivate le critiche dei pendolari, in particolare quella di Ettore Fittavolini, il presidente dell'Associazione Pendolari di Piacenza. Piazzale Marconi ha detto necessito urgentemente di un ripristino della legalità e di scelte condivise, non sperimentali. Ad esempio la possibilità di sosta breve, non con la tariffa minima di un'ora, per carico e scarico dei passeggeri diretti in stazione, ma anche politiche a favore degli utilizzatori del trasporto pubblico urbano e di ogni categoria degli utenti della strada, mobilità ciclabile in primis. Stiamo valutando in questi giorni se questo tipo di sperimentazione ha un esito positivo oppure crea qualche problema. I primi giorni hanno dato una risposta positiva, ma siamo in un momento in cui molte persone utilizzano la bicicletta e quindi magari non fanno uso di auto per andare in stazione. Ci sono le ferie, quindi sappiamo che non è attendibile come tipo di informazione. Dobbiamo aspettare un pochettino per avere le risposte definitive e poi se la sperimentazione darà un esito positivo potremmo sostituire New Jersey con qualcosa di più definitivo, viceversa possiamo sempre tornare indietro e ripristinare la situazione iniziale di cui però conosciamo i limiti. Sperimentazione anche per altri posti blu? Qualcuno è spuntato in altre vie della città? In realtà sì, abbiamo fatto una razionalizzazione importante sul parcheggio di Viale Malta, abbiamo aumentato di 15 unità i posti blu ma di una ventina di unità i posti bianchi. Nuovi posti blu anche in via Torta al posto della rimozione forzata.